Cari amici, carissimi amiche, un saluto da Roberto Artigiani. Che gioia oggi, dopo tanti anni, essere ancora qua a presentarvi quello che è stato il successo televisivo perlomeno degli ultimi 5 o 6 anni. Pensate, di questo oggetto ne sono stati venduti così tanti pezzi da battere ogni record, forse insuperabile anche nel futuro. Perché grande successo? Perché tantissime telefonate e tante persone che ci hanno fatto gli applausi? Perché è un oggetto comodo, eccezionale e più che altro che vi fa risparmiare tanti, tanti soldi. A che cosa serve? Si chiama Magic Harry. Quindi, come ben avete potuto capire, parliamo di capelli. Allora, la domanda. Secondo voi, io sono stato dal barbiere? Ho una testa abbastanza a posto? Posso presentarmi a voi? Sono abbastanza curato? Chi potrebbe sospettare che in realtà io sono 10 anni che non vado dal barbiere? E grazie a lui, grazie al Magic Harry, ho risparmiato tutti questi soldi. Facendomi i capelli da solo. Facendomi la barba da solo. È impossibile? Vi assicuro che non è così. Ed è una cosa stupenda, perché è facilissimo da utilizzare, senza problemi, senza rischi, non potete sbagliare. E ora vi faremo vedere come è costruito. Come vedete, ha la possibilità di regolazione la battuta, ha una lava interna molto speciale ed è praticamente un pettine. Mentre vi pettinate, lui vi sistema i capelli. L'ideale per chi vuole dare una giustatina è eccezionale per chi vuole tagliarli completamente. Ripeto, qui non potete sbagliare, non rischiate di fare un errore, perché c'è una battuta. Volete scorciarli appena appena? Lo mettete alla battuta 1 o 2. Volete aumentare il taglio? Potete arrivare fino a 6. Addirittura fare appunto anche le basette. Volete togliere doppie punte? Volete dare una spuntatina a una ragazzina? Vedete che addirittura si diverte questa piccolina? E sapete quanto è difficile invece portare una persona così giovane dal barbiere? Quella piange? Il tempo perso? La noia? Guardate con quale facilità riusciamo a sistemare i capelli. Quante volte avete detto vado dal barbiere, appena esco, ho i capelli cortissimi e poi dopo una settimana ho già il capello lungo. Dovrei tornarci di nuovo. Invece basterà darsi una pettinatina ogni 3 o 4 giorni, una settimana, dipende naturalmente dalla crescita, e voi avrete di nuovo una testa perfetta, senza spendere soldi. Quindi ogni volta che voi volete essere perfetti basterà usare il nostro Magic Harry con estrema velocità. Se non lo sapete fare da soli potete farvi aiutare da una persona di famiglia. Io lo faccio da solo, poi tra poco lo vedremo perché mi sono fatto i capelli proprio circa un'ora fa. E naturalmente abbiamo registrato queste immagini. Allora ripeto, attenzione perché è eccezionale, vedete qui vi mostrano la possibilità di regolazione della battuta e quindi andare addirittura a togliere proprio anche gli ultimi pelucchi del collo. Quindi potete proprio fare una cosa completa, esattamente come dal barbiere, ma lo fate in casa, senza bisogno nemmeno di energia elettrica, senza rischio di sbagliare, senza rischio di farvi male perché non potete assolutamente tagliarvi, sia chiaro, è garantito, è uno dei prodotti più belli che siano mai stati presentati al mondo. Guardate, ecco vi faccio vedere, avete visto il sottoscritto, aveva i capelli un pochino messi male, poi io ho anche dei capelli difficilissimi, guardate quanto capello taglio, vedete, con estrema facilità. Ora vedrete, dopo pochi istanti, perché questo è tutto in pressa diretta, ci avrò messo 30 secondi, vedrete che la mia testa è presentabile, poi se avessi perso un pochino più tempo avrei fatto un lavoro più accurato, ma sicuramente sarò presentabile, cosa che non era certamente all'inizio di questo taglio. Come vedete io davanti a uno specchio lo faccio da solo perché sono diventato molto bravo, senza considerare tutto il tempo che ho risparmiato e senza considerare che io avrò la testa a posto ogni volta che la voglio e non magari dover attendere 20 giorni o un mese per andare dal barbiere. Secondo me la testa non è perfetta, io un colpettino così ogni 3 o 4 o 5 giorni, anche leggermente, tipo pettine proprio, faccio finta di pettinarmi, in realtà mi metto a posto la testa ed è molto bello. Guardate quanti capelli ho tolto e vedremo tra poco qual è il risultato. Non è male, è vero? Tutto sommato sembra che sia andato al barbiere e potevo far meglio. Questo era Roberto Artigiani poco fa, questo è Roberto Artigiani ora, dopo aver fatto questa funzione indiretta. E questi sono i capelli che avete visto? Sono io, così. Signori, guardate che poi ho un capello mosso, io molto difficile. Probabilmente se avete dei capelli lisci l'operazione sarà ancora più facile. Allora, mi raccomando telefonate perché oggi ne daremo 100 alle prime 100 telefonate, non solo, ma compreso nel prezzo vi daremo anche 5 lame di ricambio perché pensate, io con queste 5 lame sto andando avanti da 10 anni, non si sono ancora esaurite, quindi pensate un po' quanti anni ci fate, poi nel caso questo accadesse ce le potete richiedere. Ma oggi abbiamo una sorpresa, abbiamo un regalo sempre per le prime 100 telefonate. Vi daremo, compreso nel prezzo, un eccezionale Vibrocar. Sapete che cos'è il Vibrocar? È quell'apparecchio che serve per poter mettere a posto le unghie dei piedi, le unghie delle mani. E avete tutte le frese, naturalmente è elettrico, funziona batteria, avete 4 frese e un lucidatore e con questo vi potete divertire a fare ogni tipo di lavoro che preveda togliere dei cali, dei duroni, oppure fare proprio una manicure accuratissima. Basta schiacciare quel bottone e lui comincia a vibrare e fa da fresa. E qui potete sistemare le unghie dei piedi, le unghie delle mani, addirittura lucidarle, addirittura togliere quella pellicina intorno all'unghia. Insomma, fare qualunque tipo di operazione divertendovi, oserei dire, con estrema facilità. Avete addirittura una parte in feltro, vedete questo accessorio in feltro, che vi consente di lucidare perfettamente le unghie, sia delle mani che dei piedi. Bellissimo, guardate che meraviglia, vi accorgerete quanto risparmio, quanti soldi e quanta perdita di tempo che non avrete più. Perché voi non fate, guardate, ma davvero è estremamente facile, è divertentissimo, dice, c'è un pelo qui che mi sembra in eccedenza, fate così, guardate, eccolo qua, guardate, eccolo qua. L'ho fatto, ma non rischiate di fare una cosa sbagliata, perché lui è un pettine, mentre vi pettina toglie quello che c'è in più e quindi vi lascia la testa a posto. Dice, qui c'è un pelo fuori posto, facciamo così, sta, vedete? Ecco, è quello che sto facendo io ora. E vi toglie proprio ciò che è in eccedenza e va, lo potrei fare tutti i giorni, ogni cinque minuti, non rischio di tagliare ciò che non voglio tagliare. Perché gli date la battuta, dice, io li voglio lunghi a questo punto e voi avrete sempre capelli in ordine, perfetti e giusti al punto che volete voi, senza problemi. Quindi anziché pettinarsi e basta, potete pettinarvi e tagliarli. Eccoli qua, e questo è il risultato. Mi raccomando, telefonate, perché oggi ne daremo cento, alle prime cento telefonate, non solo, ma compreso nel prezzo, vi daremo anche cinque lame di ricambio, perché pensate, io con queste cinque lame sto andando avanti da dieci anni, non si sono ancora esaurite, quindi pensate un po' quanti anni ci fate, poi nel caso questo accadesse ce le potete richiedere. Magic Carry, soddisfatti o rimborsati, milioni e milioni di persone in tutto il mondo hanno approfittato di queste eccezionali novità. La bellezza di poter fare i capelli stando a casa, la bellezza di non spendere soldi più, assolutamente, senza considerare una mezza giornata di tempo che dovete perdere, perché dovete rimanere lì in attesa. Vedete che lavoro facile, ma guardate che è una cosa veramente incredibile. Voi non rischiate, potete fare un taglio perfetto, accurato, non rischiate di sbagliare, non rischiate di fare niente per le persone magari anziane che non si possono spostare, per i bambini, ma per chiunque, per chiunque voglia avere una testa perfetta senza bisogno di dover ricorrere continuamente alle cure di un barbiere. Voi quante volte dite, ma io mi sono fatto i capelli, però una settimana già li ho scomposti, li ho già lunghi, il ragazzino, ma sarà un gioco, la barba, vedete, serve anche per una barba. Guardate, è un gioco da ragazzi, mi raccomando, guardate con quale tranquillità questa piccolina si fa, e poi io che ho dei capelli impossibili, se sono riuscito a farli io, guardate che io sembro un istrice, ho dei capelli incredibili, e invece con questo non vado più dal barbiere. Allora mi raccomando, fate la stessa cosa, telefonate, vi accorgerete che tutta la famiglia non potrà più farne a meno, vi accorgerete che servirà per tutti, vedete c'è anche un rasoio per farsi la barba, quindi oltre a essere un oggetto per i capelli, serve per la depilazione di tutto il corpo. Ragazze mie, Magic Carry, vi accorgerete quanto risparmio, quanti soldi e quanta perdita di tempo che non avrete più, perché voi non fate, guardate, ma davvero è estremamente facile, è divertentissimo, dice, c'è un pelo qui che mi sembra in eccedenza, fate così, guardate, eccolo qua, guardate, eccolo qua, l'ho fatto. Ma non rischiate di fare una cosa sbagliata, perché lui è un pettine, mentre vi pettina toglie quello che c'è in più, e quindi vi lascia la testa a posto, dice, qui c'è un pelo fuori posto, facciamo così, sta, vedete, ecco, è quello che sto facendo io ora, e vi toglie proprio ciò che è in eccedenza, e va, lo potrei fare tutti i giorni, ogni cinque minuti, non rischio di tagliare ciò che non voglio tagliare, perché gli date la battuta, dice, io li voglio lunghi a questo punto, e voi avrete sempre capelli in ordine, perfetti e giusti, al punto che volete voi, senza problemi, quindi anziché pettinarsi e basta, potete pettinarvi e tagliarli, eccoli qua, e questo è il risultato. Faccio un lavoro che debba essere anche abbastanza presentabile, abbastanza, non voglio dire di essere, non sono fissato per queste cose, però è importante presentarsi bene, no, con la testa curata, e magari anche con la barba ben fatta, con le gambe depilate, con le ascelle e tutto quello che ne consegue. Mi raccomando, telefonate subito, arrivano già tantissime telefonate, solo 100, non di più. Ciao, grazie per la telefonata e mi raccomando, che buttare via i soldi e il tempo, io sono abbastanza bello, no? Si fa per dire, ciao, ciao. Grazie per la visione.